Non c'è sosta se non sulla cima. Il Nola non può voltarsi indietro. Il Nola deve salire, deve provarci, deve risalire in questo campionato. La ventesima giornata del Girone G Serie D, squadra della Costa Smeralda. Andiamo a presentare il direttore di gara, la signora Martina Molinaro, il secondo assistente, il signor Davide Fabrizi della sezione di Frosinone. Una gara importantissima per questo Nola che ha avuto una settimana molto intensa perché si sono disputate le partite contro Vissartena e contro Latina. E allora si parte. Comincia la parte di D'Angelo per il Nola che prova a venire avanti ma viene fischiato appunto un... E attenzione! Un inizio incredibile in questa partita. Primo minuto di gioco è successo già l'impossibile. A Campora. Ci prova Campora, respinge però il portiere Ruzzittu. Riconquista palla il Nola. Rientrato. E tiro di Alvino. Il numero 7 col suo mancino pericoloso. Dalle maglie bianche. Eccolo ancora! In posizione di tiro. Ruggero. Non è nel suo piede. Il numero 2. Attaccante di questo nuovo attaccante esterno. Vediamo. Ci va proprio lui. Che gol! L'avevamo detto. Tiro a giro. Alvino che ha beffato il portiere dell'Arzachena. Ruzzittu. Grande punizione per Francesco Alvino. E va in vantaggio il Nola. 1-0 qui allo Sporting Club. Viene avanti ancora il Nola con Alvino. Alvino. Prova a triplare l'avversario. Mette al centro questo pallone per Cardone. Che va addirittura rovesciata. Acrobazia. Di Cardone. C'è il tiro. È parata. Facile. Di Bella Rosa. Ancora Cardone per Gassama che lascia scorrere il pallone. Dario Caliendo. Vede la porta. Tiro. Parato dal portiere. Luzzittu. Tiro centrale. E prova ad amministrare comunque il gioco. Ma adesso punizione per l'Arzachena. Colpo di testa di Congiu. Preda. Di Bella Rosa. Esposito. Cerca. L'imbucata di D'Angelo. Davanti la porta. D'Angelo. Attenzione. Caduto in area di rigore D'Angelo. Ma per il direttore di gara. Tutto regolare. E finisce così il primo tempo. Qui allo Sporting Club. E si riparte. In questo secondo tempo. Se prova il tiro. Si. Prova la conclusione. Che parata di Bella Rosa. Aiutato anche dall'incrocio dei pali. Sembrava russo. Ma dava il colpito di testa. E c'è. Vediamo che succede. Espulso. Per doppia munizione. Il numero 11. Antonio Cardone. Punizione Arzachena. Prova a cercare sempre l'attaccata. E c'è un pallone pericoloso. Per Loi. Che bella giocata di Acampora. Mette al centro. Gassama. Vede la porta. Tiro. Fuori di un niente. In questi minuti. Attenzione. C'era stato. Un rimpallo. Batte Rossi. Calcio di punizione. E finisce alto. Il pallone. Si dispera. Il numero 17. Fa da schermo ancora Campora. Per Gassama. Prova al tiro. Ruzzittu. Blocca. E attimi davvero concitati. Ma arriva il triplice fischio. Nola. Uno. Arzachena zero. Appuntamento alla prossima. Buon calcio a tutti.